Il Signore non sa dare meno di tutto, ma la sua pienezza è una pienezza annientata nella croce. Alla vigilia del mercoledì delle ceneri, Papa Francesco ha ribadito che lo stile del cristiano è la croce e che seguire l'esempio del Figlio di Dio ci porta alla vera felicità, già nell'oggi, nonostante le difficoltà e le persecuzioni. Nel corso dell'omelia della Messa celebrata a Santa Marta, il Pontefice ha anche ricordato la vita del Santo Cileno Alberto Urtado. Questo è il dono di Dio, la pienezza annientata. E questo è lo stile del cristiano, cercare la pienezza, di ricevere la pienezza annientata e seguire per quella strada. E non è facile, non è facile questo. E qual è il segno, qual è il segnale che io vado avanti in questo dare tutto e ricevere tutto? Abbiamo sentito nella prima lettura. Glorifica il Signore con occhio contento. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Dall'Altissimo, secondo il dono da lui ricevuto, e con occhio contento, secondo la tua volontà. Occhio contento, lieto il volto, gioia, occhio contento. Il segno che noi andiamo su questa strada del tutto e niente, della pienezza annientata e la gioia. Contento.